Conferisce questo riconoscimento a Caponera Emma, quale attestato di più longeva fedeltà alla contraternita. Vigo Nellazzo il 17 gennaio 2016. Padre nostro che sei nei beni, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua con ogni cosa, per Cristo nostro Signore, amén. Il Signore sia con voi, e con il tuo Spirito, Dio che ha creato con l'intercessione di Sant'Antonio Abate. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.